delicatamente palmi e dita alterniamo da una parte la mano e dall'altra il pennello andiamo un pochino anche di lato e all'interno questo pennello spero lo possiate capire molto morbido ok passiamo ora allo scrub che vi ho fatto vedere ho fatto io molto in modo molto semplice prima vado a bagnare leggermente ovviamente tutta la zona che sono qui sono qui qui andiamo a mettere un po' di questo scrub fatto da sale grosso, un po' di sale fino, olio a piacere e un po' di gocce di essenzia di lavanda ok andiamo a fare un massaggio molto delicato perchè appunto questa è una zona delicata quindi esercito una pressione minima bella suona ok ok Grazie. Ti va male? Ok. Giro. Facciamo anche un po' qui sopra. Grazie. Grazie. Ho voluto fare lo scrub anche perché fa un rumore splendido. Ogni tanto vado magari a fare un weekend nelle spa ogni molto tanto e organizzano gli eventi tipo saune, quegli spettacoli. E' uno tipo a tema vichingo o cose del genere. Alla fine tutta una scusa per quella sauna. E lì c'è un altro suono bellissimo che è il chiaccio aromatizzato che mettono sulla brace. L'hai visto? Bellissimo. E che si scioglie immediatamente rilasciando appunto tutti gli oli essenziali. E' molto bello. E poi arriva insomma me l'ha detto la sauna che sbandiera tipo il asciugamano verso le persone e ti arriva un'aria calda che quasi non la sopporti. Però ogni tanto va bene. Unica cosa ricordatevi di togliere i gioielli perché io mi stavo stirando il collo con la collana. E invece nella sauna umida, qui si dice il bagno turco, fanno questi eventi con il peeling e appunto loro dicono sempre che usano semplicemente sale grosso e olio con un po' di oli essenziali. E essendo lì molto molto umido comunque fa sempre un suono stupendo con tutta la pelle super umida. Bellissimo. E adesso facciamo l'ultimo leggero massaggio alle dita. E adesso andiamo a sciacquare il tutto. Vorrei farlo qui perché sicuramente fa un bel suono ma abbiamo fatto un pompozzo. Quindi torniamo subito. Grazie.